Le forze dell'ordine minacciano lo sciopero. Il blocco dei contratti della pubblica amministrazione potrebbe portare a incrociare le braccia polizia, carabinieri, finanza e tutti gli attori del comparto sicurezza. Per gli esponenti sindacali il rischio della prima protesta della storia repubblicana è concreto. Francamente io credo che un punto più basso così negli ultimi 30 anni non l'abbiamo mai avuto. Stipendi bloccati, niente straordinari e risorse ai minimi storici. Il tutto mentre migliaia di immigrati stanno raggiungendo l'Italia e il rischio terrorismo anche in Veneto si fa sempre più concreto. Nelle scorse ore è stato arrestato Bilal Bosnic, l'imam che ha predicato in tutta la regione e ha convinto i bellunesi Mesinovic e Karamaleschi ad arruolarsi nell'IS. Tutto quello che si vede è davvero un centesimo del pericolo a cui siamo sottoposti, sommato poi a continui tagli alle forze dell'ordine ma non tanto come numero solo, anche come investimenti di intelligence. È un pericolo perché non abbiamo le forze neanche per contrastarlo come valutazione anche nei paesi di origine, noi non sappiamo quasi niente di quello che sta succedendo.